Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti nelle videoanalisi pre-partita di Lecce e la Sverona Garavalda per la 28esima giornata di questo campionato di Serie A 2023-2024 Prima di cominciare a parlarne vi invito come sempre a lasciare tanti pollicioni in su Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto Fatemi sapere con un commento qui sotto la vostra su questo importante match E vi aspetto ovviamente domani, domenica 10 marzo, a partire dagli ore 12.20 qui sul mio canale YouTube Per la consueta live reaction e radio cronaca della partita Che dire, ovviamente questo Lecce e la Sverona, come detto poc'anzi, sarà un importantissimo match Perché noi siamo sì al 13esimo posto, a quota 25 punti Ma il Verona, che è 17esimo a pari punti col Cagliari, dista solamente due lunghezze Quindi davvero questo genere di match bisogna fare più punti possibili Io mi aspetto che tra questa partita e quella contro la Selenitana Possano arrivare minimo, minimo 4 punti E sicuramente non sarà una gara facile Perché questa è la Sverona Comunque è un gruppo coeso Che lotta con la grinta, con la cattiveria Cosa che ci sta mancando un po' a noi in questo momento Perché è una squadra che purtroppo cala nei momenti di difficoltà E questo lo sappiamo Non è il vero Lecce che conosciamo Quindi speriamo di poterlo rivedere a partire da domani e nelle prossime partite Ovviamente sarà una gara molto importante Anche per l'allenatore dell'Elas Verona Marco Baroni che è stato ovviamente il nostro allenatore fino allo scorso anno Ovviamente lo ringrazieremo sempre per averci ricondotto in Serie A E per averci portato alla salvezza Ma domani ragazzi questa è una partita assolutamente Assolutamente da vincere Detto ciò passiamo alle probabili formazioni Ovviamente tra i da fria del Lecce non ci sarà Mohamed Kabbal Stagione finita anticipatamente per lui Perché ha avuto la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro Quindi lo rivedremo alla prossima stagione E purtroppo notizia anche di questa mattina Non ci sarà Marin Pongracic Perché ha avuto un paio di infortuni negli allenamenti dei giorni scorsi E purtroppo non ci sarà Quindi mi sposto Partiamo ovviamente dal nostro Lecce 4-3-3 con Falcone in porta Gallo e Jean Drey saranno i due terzini difensivi Con Baschirotto e probabilmente Alexis Blen Che verrà arretrato al ruolo di difensore centrale Centrocampo a tre un po' più offensivo Con Ramadani al centro Gonzalez sulla destra Finalmente lo vediamo in campo Non capisco il motivo del suo poco utilizzo durante questa stagione Secondo me è un ragazzo che merita assolutamente Sulla sinistra invece dovrebbe rivedersi dal primo Remy Uden Attacco a tre invece che dovrebbe essere lo stesso Di quello visto a Frosinone Con Christovic al centro Alquist sulla destra E Banda sulla sinistra Sperando che i nostri esterni possano tornare ad incidere Visto in queste ultime partite Un po' così e così da parte di entrambi Passiamo invece a Lella Sverona 4-2-3-1 con Montipo in porta Chachua sarà il terzino destro Caballo il terzino sinistro Coppola e Magnani invece saranno i due difensori centrali Due mediani che saranno Serdar e Duda Tre trequartisti con Suslova al centro Giocatore da tenere d'occhio Folo Ruscio sulla destra E Lazovic sulla sinistra Punta centrale che dovrebbe essere Noslin L'ultimo di scontro diciamo tra queste due squadre Fu la sfida dell'andata In quel caso a Spuntala fu il pareggio Per 2-2 Andammo per ben due volte in vantaggio E puntualmente ci facciamo recuperare In entrambe le occasioni E invece l'ultimo a Lecce e la Sverona Ovvero la sfida giocata a Piede del Mare Fu lo scorso anno in Serie A Ma Spuntala fu proprio L'Elas Verona con un gol di Ingonge Era l'ottantesimo minuto insomma E sicuramente quella vittoria Si rivelerà essere molto importante Per la salvezza finale Proprio della squadra allenata Adesso da Marco Baroni Che dire Speriamo bene Vi ringrazio di cuore per aver visto questo video Forza le c'è sempre E vi aspetto domani Nella retroconaca della partita Buon sabato sera a tutti voi E a domani